Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che scorre in maniera generalmente irregolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. In A1 si ricorda che a causa di lavori fino alle 18 di stasera rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni, sempre a causa di lavori in A15 restringimenti e scambi di carreggiata tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Anche sul raccordo Sena-Firenze si ricorda che è in vigore uno scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento con la A1, Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis e Tiberina invece a causa dello scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Sansepolcro-Sud, chiusura dello svincolo stesso in entrata e in uscita in direzione Roma. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!